Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Circolo Arci Artigiana replica il nuovo presidente l'ex socio De Sena era presente alla votazione e Santorelli che due anni fa era assessore al bilancio poteva controllare il cambio di gestione Il senente Luigi Leuzzi è il nuovo comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Fano Settimo assessore l'opposizione è decisa a proporre una mozione di sfiducia contro il sindaco Seri gli assessori siano occupati a tempo pieno Al via i lavori per la realizzazione della nuova strada che condurrà al porto turistico di Fano Dopo il Tg torna Primo Cittadino il programma in diretta con il sindaco di Fano Massimo Seri Buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia apriamo riparlando un'altra volta del Circolo Arci Artigiana di San Lazzaro ieri vi abbiamo mostrato un servizio in cui un suo ex socio lamentava un cambio di gestione poco chiaro asserendo che il Circolo fosse diventato con questo cambio di gestione una sede politica per militanti di estrema sinistra pronta oggi la replica del nuovo presidente Barbara Falcinelli sentiamo il servizio di Simona Zonghetti da sede riservata agli artigiani a sede politica per simpatizzanti di estrema sinistra a sollevare il caso sul cambio di gestione definito poco chiaro del Circolo Arci Artigiana di San Lazzaro a Fano è stato un ex socio Antonio De Sena che lamentava di essere stato ingiustamente escluso come ha spiegato alla nostra redazione tempo fa avrebbero chiesto a tutti i soci di riconsegnare le tessere con la restituzione delle quote annunciando la chiusura del Circolo di proprietà del Comune in realtà così non è stato ed anzi è stato nominato un nuovo direttivo e sempre secondo De Sena la sede non sarebbe nemmeno più a partitica come richiesto invece dallo Statuto una vicenda questa che domani finirà anche in Consiglio Comunale grazie ad una interrogazione presentata da Alberto Santorelli ma oggi a replicare è la nuova presidente Barbara Falcinelli innanzitutto questo attacco ci coglie molto di sorpresa dal momento che si contesta un cambio di gestione avvenuto ormai due anni fa peraltro votato all'unanimità da un'assemblea in cui il signor De Sena era presente e avvallato e controllato nella propria prassi dall'assessore al bilancio di allora ovvero il signor Alberto Santorelli pertanto che ora da consigliere comunale venga a chiedere delucidazioni in merito a questo cambio di gestione insomma è una cosa che come minimo ci suona già abbastanza strana noi abbiamo ereditato tra virgolette questo circolo ed era un circolo in forte decadenza con delle criticità molto forti con il lavoro con l'impegno con la dedizione gratuita dei soci vecchi e nuovi siamo riusciti a riportare il buon nome di questo circolo il buon nome dell'artigiana abbiamo trovato 67 tessere siamo arrivati a 330 iscritti e per cui insomma già questo è un dato che parla molto chiaro rispetto a quello che è appunto il buon nome del circolo è diventato un punto di riferimento per il quartiere è tornato ad essere frequentato dalle famiglie dai bambini cosa che fino a due anni fa era tutto sommato difficile visto appunto quello che poteva essere l'ambiente ed è un riferimento anche per la città perché comunque siamo il circolo Arci con il maggior numero di soci a Sufano e con il maggior numero di iniziative culturali è stato detto però che in questa sede adesso si fa soltanto un'attività politica è così? assolutamente no non esiste attività politica nella misura in cui non esiste l'Arci nel senso che l'Arci è un'associazione nazionale che si occupa sì di essere progressista e antifascista questo è chiaro è negli intenti dell'associazione appunto noi non facciamo altro che riprendere quelle che sono le campagne nazionali e riproporle ai nostri soci nella misura a loro più gradita ma certamente non facciamo attività politica di partito né tantomeno finanziamo partiti o cose cause politiche dal momento che lavoriamo tutti gratuitamente e tutto quello che viene percepito viene rinvestito nella vita del circolo dopo il servizio andato in onda ieri sera nel nostro telegiornale è stata già contattata da diversi soci? assolutamente il vostro servizio è stato dirompente per quello che sono appunto i nostri soci che mi hanno chiamato si sono sentiti indignati e offesi dalle dichiarazioni del signor De Siena pertanto come associazione stiamo valutando di procedere per via legali cambio al vertice della compagnia della guardia di finanza di Fano dopo 5 anni il capitano Francesco Mancini lascia il comando per ricoprire un nuovo incarico al nucleo di polizia tributaria di Siena il suo successore è il tenente Luigi Leuzzi originario di Lecce l'ufficiale ha iniziato la sua carriera nel corpo della guardia di finanza all'accademia di Bergamo e al termine del corso quinquennale ha prestato servizio al secondo gruppo di Bologna poi al nucleo di polizia tributaria di Firenze dove ha ricoperto nel tempo l'incarico di comandante della sezione accise reati societari e fallimentari e della sezione criminalità economica e dopo le dichiarazioni di Marchegiani che sono apparse sulla stampa sulla necessità del settimo assessore ricordiamo che Marchegiani è anche il segretario della sezione del PD fanese l'opposizione annuncia battaglia ed è pronta a porre una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Fano Massimo Seri il risparmio di oltre 300 mila euro l'anno di cui questa amministrazione si vanta verrà volatilizzato in tempi brevi con la nomina di nuovo componente nello staff del sindaco e del settimo assessore è il pensiero dell'opposizione fanese che è pronta a dar battaglia dopo aver letto sulla stampa locale che il vice sindaco Stefano Marchegiani attuale segretario del PD apre la strada a questa possibilità a questo proposito i consiglieri di minoranza non solo sono disposti a proporre una mozione di sfiducia nei confronti del primo cittadino Massimo Seri ma ricordano anche l'approvazione avvenuta mesi fa di una mozione in cui la giunta si impegnava non ad aumentare gli assessori ma anzi a ridurli non c'è bisogno ad ora di un settimo assessore anche e soprattutto perché ci sono due assessori ancora in part time quindi se è vero che forse la giunta non sta funzionando al meglio e quindi ha bisogno di essere rimescolata e aggiustata è anche vero che adesso il gioco del settimo assessore non può soddisfarci il sindaco che non è in grado di prendere decisioni e di portarli avanti perché è tutto un annuncio e poi non tornare indietro quindi questa cosa ci spaventa e ci preoccupa perché i problemi della città sono rimasti invariati nel giro di 14 mesi quindi quando parleremo di sanità di sociale di decoro urbano di turismo e poi non so la lista è infinita quindi quando affronteremo questi discorsi e ora che cosa farà l'opposizione? Noi stiamo valutando l'ipotesi di presentare in consiglio comunale una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Seri ci rendiamo conto che è un atto molto grave importante che negli ultimi anni non è mai stato fatto però nello stesso tempo abbiamo la responsabilità di difendere i diritti dei nostri concittadini quindi se non vediamo la guida della città una persona che riesce almeno a guidare la propria maggioranza bisogna che interveniamo in qualche modo e quindi stiamo valutando proprio queste ipotesi e su questo ed altri argomenti proprio il sindaco Massimo Seri fra pochi minuti potrà replicare in diretta in occasione proprio della trasmissione Primo Cittadino che questa sera andrà in onda a seguire il telegiornale bene parliamo dell'episodio del forcone perché dopo questo brutto episodio di questo forcone posizionato davanti al comune di Monbaroccio il sindaco di Pesero Matteo Ricci esprime piena solidarietà al suo collega Angelo Vichi e definisce l'episodio un grave atto intimidatorio insieme a Monbaroccio continua Matteo Ricci abbiamo aperto un confronto per dare risposte ai nostri cittadini cercando di innovare la pubblica amministrazione il percorso appena aperto continua durerà mesi compreso il passaggio del referendum dove ognuno potrà dire la sua rimaniamo nell'alveo della politica anche se non ha una rappresentanza in consiglio comunale bene comune interviene sul lavoro del sindaco Seri e sulla sua giunta l'associazione politica richiama l'attenzione sulle parole del vescovo Trasarti il vescovo è da molto che richiama un po' l'attenzione di tutta la cittadina e chi la governa richiama ha richiamato fortemente tutte le varie forze economiche sociali proprio perché si mette a fuoco questo grosso problema il problema del lavoro il problema del vivere sociale il problema delle relazioni il problema dell'abitabilità della qualità della vita della città sono parole coraggiosi importanti che chiaramente la sua voce è una voce di stimolo e di provocazione che secondo noi andrebbe accolta andrebbe in qualche modo ascoltata per poter mettere chi poi è responsabile e anche noi fonda anche come una forza politica anche se come dico in questo momento un po' marginale alla vita del dibattito consigliare però di mettere in campo come dire idee progetti responsabilità mi sembra che il principio fondamentale sia proprio quello della responsabilità non sono stati sbloccate le situazioni della caserma dell'arredo urbano anche l'ingresso in città da sud e da nord segnalava anche lo stesso vescovo si presenta ormai da decenni caratterizzato da due scheletri che veramente non danno buon segno per chi entra in città nemmeno è stata detta una parola risolutiva sulla questione dell'ospedale sembra che la città sia sotto un controllo diciamo politico sovracomunale ma che sempre di più dipenda dalle volontà politiche provinciali e quindi dalla città capoluogo di provincia di Pesaro ci pare che negli ultimi periodi i nostri amministratori sono molto concentrati sugli equilibri interni della giunta dell'amministrazione delle varie forze politiche e dalla necessità di garantire a questo quell'altro esponente una poltrona da assessore piuttosto che essere a fondo impegnati a risolvere i problemi della città ed ora occupiamoci di trasporto pubblico perché l'aumento delle tariffe deciso dalla regione Marche rischia di provocare un effetto a catena su diverse categorie di persone che utilizzano il trasporto pubblico locale potrebbe influire quindi sia sul costo del biglietto che su quello per gli abbonamenti a tal proposito il sindaco di Fano Massimo Seri ha inviato una lettera al direttore di Adria Bus dove manifesta la preoccupazione che tali aumenti si possano ripercuotere negativamente su chi utilizza il trasporto pubblico locale con l'auspicio che non vengano eseguiti sempre a questo riguardo però in una nota diffusa nel pomeriggio di oggi l'assessore regionale trasporti Angelo Sciapichetti dichiara non c'è nessun obbligo di aumentare le tariffe del trasporto pubblico locale la regione ha deliberato un adeguamento dei limiti massimi delle tariffe spetta poi ai singoli enti locali decidere se elevare le tariffe attuali ed ora vi mostriamo delle immagini relative a un ribaltamento di un rimorchio siamo in località Sant'Andrea in Villis come vedete dalle immagini di un nostro reporter di strada un reporter di strada di Fano TV un mezzo agricolo e il suo rimorchio si sono intraversati sulla strada e come vedete appunto il carico del rimorchio è riverso quasi per metà sulla sede stradale e addirittura avete visto anche il semiasse del rimorchio è uscito dalla sua sede sul posto i mezzi ecco lo vedete in questo momento sul posto anche i mezzi dei pompieri per ripristinare la viabilità che è stata controllata da una pattuglia dei vigili urbani di Fano e a Sassonia di Fano sono iniziati i lavori della strada che condurrà al porto turistico come l'accordo che c'è tra il comune e Marina Group quest'opera deve essere realizzata entro l'anno prossimo vediamo cantiere avviato a Sassonia di Fano dove sono iniziati i lavori per realizzare la nuova strada prevista dal piano regolatore del porto si tratta di un intervento a spese di Marina Group su un'area in concessione demaniale e durante il rinnovo della convenzione l'amministrazione comunale ha chiesto alcune garanzie sui tempi per realizzare le opere il consorzio che gestirà il futuro polo della cantieristica e della pesca dovrà realizzare entro il prossimo anno la strada che condurrà dal lungomare mediterraneo al porto turistico Assessore vedo delle ruspe per cui i lavori sono partiti si i lavori sono partiti alla fine il calcolo economico sarà di 471 mila euro per queste opere di urbanizzazione vuol dire la strada i sottoservizi l'illuminazione rete gas e anche parcheggi e il verde che deve essere realizzato nell'ambito delle pertinenze stradali quindi un intervento abbastanza consistente che anche muove anche l'economia la nuova strada si innesta sulla viabilità esistente in asse con l'intersezione con via l'adriatico e poi curva verso destra vediamo già anche questa linea tratteggiata che indica praticamente poi la strada curva dove costeggeremo la passeggiata dell'eseppo e quindi questo è il sedime dove viene realizzata l'infrastruttura questa urbanizzazione che è importante per intenderci questo una volta era un parcheggio giusto? questo era il parcheggio dietro al laboratorio di biologia marina che poi ha avuto un'evoluzione diversa nella sua funzione qui c'era la diga foranea che adesso è traslata e quindi è cambiata la funzione di quest'area qui siamo in questa zona invece verranno realizzati i capannoni comunque l'intervento prevede diverse fasi dopo questa strada che cosa ci sarà? ci sarà in uno secondo step la riqualificazione della passeggiata dell'eseppo che quindi insomma viene risistemata in modo ragionevole entro i termini della concessione la realizzazione dei capannoni ecco per le diverse attività del gruppo Marina Group i lavori per riqualificare la passeggiata dell'eseppo ad un costo di circa 140.000 euro dovranno terminare invece entro 18 mesi pena la revoca della convenzione ultimati i lavori di sistemazione e di restauro la chiesa di Sant'Arcangio riapre al pubblico venerdì 11 settembre alle ore 21 e 15 ospitando per l'occasione uno degli appuntamenti della 42esima edizione dell'incontro internazionale polifonico città di Fano e non poteva esserci inaugurazione migliore ed ora per chiudere questa edizione vi parliamo di sport perché un'allieva della bocciofila di Lucrezia di Cartoceto Flavia Morelli ha vinto il titolo under 18 femminile domenica scorsa infatti si sono disputati a Roma i campionati nazionali juniores Flavia ha voluto in particolare dedicare la vittoria a Luca Conti il presidente della società e al suo ct Andrea Cappellaci ed un amico Davide Palazzini che è colui che gli ha regalato le bocce con cui ha disputato la finale bene congratulazioni a Flavia per il suo bel successo ed ora prima di salutarci io vi ricordo che a seguire fra pochi istanti andrà in onda primo cittadino l'appuntamento col sindaco Massimo Seri vi do i riferimenti per intervenire in diretta o mandare un sms o un whatsapp il numero fisso è lo 0721 861433 mentre il mobile è il 338 4968250 bene aspettando il sindaco Seri quindi io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e averci seguito sin qui o che la notizia torna naturalmente domani sera puntualmente sempre alle 23 e 30 grazie e buona serata a tutti voi